Da alcuni mesi, dal mese di gennaio per la precisione, a Gromo in Biblioteca c'è uno spazio compiti dedicato ai bambini. Com'è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è scaturita dagli incontri che facevamo con l'Osservatorio Politiche Giovanili, capofila Gromo, di cui fanno parte anche tutti i comuni dell'Asta del Serio. E abbiamo iniziato il 22 gennaio con una prova, diciamo, otto bambini più due di terza elementare, con diuvati e seguiti da due insegnanti che sono uno della cooperativa Sottosopra e l'altro invece proprio un nostro volontario che si chiama Bonetti Giovanna. Invece l'educatore è Luigi Lorenzi. Questo progetto si chiama Salt in Banco, promosso dal comune di Albino e dal comune di Clusone in qualità di enti capofilia degli ambiti territoriali della Vasseriana e della Vasseriana Superiore. Io ho avuto da parte dei genitori riscontri positivi perché i bambini hanno imparato un metodo di studio, vanno a casa, sono più sicuri con le schede che preparano gli educatori, affrontano le interrogazioni e i compiti molto bene. Questa iniziativa è andata così bene che ho proprio intenzione come comune di Gromo e poi se ci saranno altri finanziamenti, aiuti, di portare avanti questa cosa. Mi piacerebbe tanto dedicarmi ai ragazzi di quinte elementari che dovranno affrontare le medie, così come quelli di terza media che dovranno affrontare le classi superiori. Nello spazio campiti ci sono due persone che ti aiutano a studiare con gli schermini e ti fanno capire. E ti è stato utile questo momento del lunedì? Sì. E quindi ti piace il lunedì venire qui dopo scuola? Sì, tantissimo. Lo spazio compiti mi aiuta per studiare e così prendo sempre dei bei voti e mi piace. Lo spazio compiti mi piace soprattutto perché si possono fare i compiti insieme, si può mangiare insieme. I primi 20 minuti si può sempre giocare che ti lasciano un po' di pausa. E poi? E poi si fanno i compiti tutti insieme. A me lo spazio compiti mi piace perché abbiamo la possibilità di fare i compiti tutti insieme e perché dopo anche io studio bene e non prendo brutti voti. A me piace tantissimo lo spazio compiti perché possiamo fare i compiti insieme e mangiare insieme. E poi i primi 20 minuti possiamo giocare e io prendo dei bei voti. A me lo spazio compiti mi piace tanto perché ho la possibilità di fare i compiti insieme ai miei compagni e prima di fare i compiti solito giochiamo un po' a pallone e mi diverto. Perché poi posso anche mangiare insieme ai miei compagni e raccontiamo qualcosa e mi diverto molto. A me lo spazio compiti piace perché voglio fare le cose con i miei compagni e mi piace anche giocare. A me lo spazio compiti piace perché all'inizio posso giocare con i miei compagni a calcio e dopo possiamo fare i compiti insieme. A me lo spazio compiti mi piace perché posso giocare con i miei compagni e fare i compiti. Lo scopo di questo spazio compiti è principalmente alleviare per quello che è possibile le famiglie del compito che a volte è anche arduo nell'appoggiare i propri figli nei compiti quotidiani. Se è possibile riuscire a recuperare qualche lacuna che loro hanno e niente poi chiaro il loro piacere di stare insieme, di mangiare insieme che è la cosa che loro hanno messo in evidenza anche prima. Noi chiaramente cerchiamo di fare il possibile perché vengano volentieri, perché le lacune siano colmate e i voti migliorati se possibile. E' chiaro una volta a settimana non fai miracoli però è sempre qualcosa.